Per chi spesso non si sente all'altezza in determinate situazioni, ad esempio lavorative, è come non buttarsi giù dopo un errore, anche piccolo. Allora, secondo me non sentirsi all'altezza va sostituito con il imparare. Cioè, sta molto, secondo me, al chi è sopra di te, a livello lavorativo, del farti sentire all'altezza per quello che tu fai, o comunque in un periodo di apprendimento, no? Di studio. E se lo vedi in quest'ottica, perché non sentirsi all'altezza? Ora, secondo me bisogna capire cosa si intende. Cioè, sentirsi all'altezza rispetto alle aspettative, rispetto al compito, o rispetto alle tue aspirazioni. E poi, come non buttarsi giù dopo un errore, è l'altro lato della medaglia. Perché se tu vedi, hai grandi aspettative tue personali sul sentirti all'altezza, cioè, è chiaro che se per te essere bravo e fare una cosa perfetta, farai fatica a sentirti all'altezza uno. E se sbagli, ti butti giù. E quindi vedi, buttarsi giù dopo un errore anche piccolo, come fare a non buttarsi giù? Questo non vuol dire non essere ambiziosi, però vuol dire di essere alleati di se stessi. Cioè, uno può essere ambizioso, però deve anche supportarsi. Perché se no, in realtà, sei ambizioso, ma sei anche il nemico di te stesso. Sei un po' lo stronzo giudicante di te stesso. Noi sappiamo che, nella maggior parte dei casi, quando una persona ha quel bisogno, tipo, di mandare a fanculo gli altri per quello che penseranno di te, per quello che giudicheranno di te, in realtà il problema più grande è che quel giudizio l'hai interiorizzato e che sei tu a richiamarlo fuori. Cioè, il non sentirsi all'altezza spesso ha a che fare con o messaggi di genitori che hanno sempre pensato che tu saresti diventato chissà chi e quindi hanno sempre preteso tanto da te. Questa cosa ha generato un po' un superio freudiano, no? Di dover fare le cose sempre al top. Oppure ha a che fare più con degli aspetti narcisistici, cioè se non faccio le cose al massimo non sono meritevoli di amore. Oppure ha a che fare con qualcosa di più ossessivo. Cioè, se non faccio bene, tutto bene, succederà qualcosa di disastroso, ok? Non so bene quale sia, se è una, se è un mix delle tre, però chi se ne frega, poi uno capisce qual è la lente attraverso la quale vede i colori meglio. Cioè, poi tutto va infilato nel ciclo di vita. Se questa cosa tu ce l'avessi a 60 anni, è molto diverso che se ce l'hai a 20. Lì il problema è del non sentirsi all'altezza, non ce l'avresti. Però non avresti neanche quella motivazione a esprimerti, a diventare qualcuno, a crescere, a migliorare. Quindi abbracciamo questa motivazione a esprimersi, crescere e migliorare. Però non andiamo troppo di là, ok? Cambia il non essere stato all'altezza con ho fatto il mio meglio, ho fatto il possibile, me la sono cavata. È da questo che dipende il mio essere bravo o no? Questa è la vera domanda. Perché credo che la difficoltà a volte sia riuscire a star bene con se stessi sapendo di aver fatto le cose mediamente bene. No, e questo è un po' il dilemma degli sportivi. Come convive un nuotatore che nelle prove ha fatto un gran tempo quando va alle Olimpiadi e arriva ultimo nella vasca? Come convive con se stesso? Pesante, eh? Grazie.